Quest'anno abbiamo preso l'occasione di presentarlo questa settimana perché il primo circolo aderisce al secondo anno di una manifestazione molto importante che si svolge in tutta Italia che si chiama Libriamoci e per l'occasione l'inizio del progetto coincide con una settimana di attività all'interno di queste scuole, Zippillino e Lucidi, volte alla promozione della lettura. All'interno delle scuole praticamente come verrà sviluppato il progetto? Il progetto riguarda tre giornate, il 27 e il 29 per la scuola primaria di Noe Lucidi e il 30 per la secondaria Zippilli. Per quanto riguarda la scuola primaria l'iniziativa di Libriamoci della Noe Lucidi è titolata Cacciatore di Libri, quindi è una caccia al tesoro alla ricerca e seguendo un fil rouge da libro a libro che condurrà poi i bambini ad acquisire poi un attestato di esploratore nella giungla libresca. Per quanto riguarda la Zippilli parliamo chiaramente di ragazzi più grandi e quindi avremo la Book Fairy Night, la serata dedicata alla letteratura gotica. I ragazzi saranno impegnati in due momenti, il book sharing, quindi lo scambio dei libri e anche il lascito di un libro alla scuola con la possibilità poi che questo libro lasciato ci sia indicato il nome del donatore e poi la maratona di lettura che vedrà i ragazzi alternare momenti di lettura, momenti di musica perché abbiamo anche una orchestra competente e con testimonial che si alterneranno con i ragazzi.